La statua, mai visto niente di simile. Ti piaccio? E me lo chiedi? Su, non perdiamo più tempo. Un momento, caro, parliamo un po'. Parlare? Adesso? E di che? Di noi due. E che c'è da dire ancora? Beh, molto. Per esempio, non penserei che sia una di quelle. Non lo penso, non lo penso. Sì, lo vedo dalla fretta che ha di portarmi là. Fretta è naturale, mi piace molto. E allora, buono buono, qui con me, chiacchieriamo un po'. Dunque, a me, tra vitto, alloggio e piccole spese occorrono almeno 100.000 lire al mese. Tu che ne pensi? Eh, che spendi troppo, ma parliamone dopo, eh. Tesoro. Tesoro, prima. No, dopo, dopo. Prima, prima. Oh! Stia comoda, tenga pure il cappello. La signorina è minorenne? No. È sposata? No. Urca, che dritto, meno male. C'è la polizia. Che? C'è la polizia. Ma dove mi hai portato? E che ne so, è sempre così tranquillo, no? Sempre così tranquillo, sì. Soltanto che qui è stata una spiata bella e buona. Comunque, guardi, non si preoccupi, si rivesta e preparati i documenti, eh. Aspetta, rivestiti. Apri la porta solo se la vogliono sfondare, vai. Sui calzoni, fuori i documenti. Sui calzoni, fuori i documenti, andiamo? Fuori i documenti, sui calzoni, già, 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 si rivesta anche lei. Giuseppe, Giuseppe, salvaci. Aiutaci.